A cosa serve la tecnica? Ti posso dire intanto a cosa non serve? Non serve a fare una bella figura nei confronti delle persone vengono a sentirti e non serve ad essere apprezzato per i colleghi. Se pensavi questo beh, mi dispiace ma purtroppo non è così. La tecnica serve prima di tutto a te, una buona tecnica di base. Se pensi a quando hai iniziato passare da un disco a un altro era sempre un grande stress e cercavi di rimandare questo momento al più tardi possibile anche perché non ti senti sicuro di te allora eviti il più possibile di scomporti. Prima o poi il disco finisce e quindi lo devi fare. E mentre magari il disco dura tanto perché te rimandi il più possibile il momento del passaggio, in realtà per te vola perché stai cercando di metterlo a tempo, stai cercando di trovare il punto giusto e quindi il disco è già alla fine. Però in realtà la serata è sempre all'inizio. La serata non finisce mai è un'agonia che sembra non finire e questo ti genera una certa ansia. Questo succede perché la tua tecnica ancora non è affinata, non è supportata dall'esercizio e non sei ancora preparato bene tecnicamente. Faccio vedere un video adesso. Un attimo eh qua giù. Questo è uno dei migliori chitarristi del mondo Nuno Bettencourt che esegue una solo velocissimo mentre sbadiglia. te dirai ah che sborone. Beh in realtà quella solo lo conosce talmente bene che lo può fare anche mentre sbadiglia e così dovrebbe essere per te quando vai a suonare. Te devi portare in serata quello che sai fare talmente bene che puoi farlo in qualsiasi situazione mentre le persone ti vengono a chiedere qualcosa mentre vuoi chiedere il numero di telefono ad una bella ragazza mentre c'è confusione, mentre c'è una rissa la tua tecnica ti salvaguarda da questo. La tecnica serve per superare i tuoi limiti. Una buona tecnica serve per essere in grado di cavartela in qualsiasi situazione quando poi sai fare tante cose diverse sai giocare con i loop, sai giocare con i filtri sai screcciare sono tutti elementi in più che puoi aggiungere che puoi gestire con cui ti puoi divertire con cui puoi giocare all'interno di una serata per questo che è bene insistere e lavorare sulla tecnica se non sei abbastanza bravo tecnicamente sei limitato e ti autolimiti e quindi sei costretto a sfruttare gli spazi vuoti quando una canzone si ferma quando una canzone si interrompe come abbiamo fatto tutti all'inizio della nostra carriera ovviamente non c'è bisogno di essere il super mago della tecnica per poter fare una serata la tecnica si impara anche durante le serate confrontandosi con i pubblici però cerca di lavorare bene sulla tecnica per poter essere in grado di cavartela in qualsiasi situazione e poi effettivamente fare una bella figura perché quando sei sicuro di te poi anche ti diverti e tiri fuori delle grandi cose come abbiamo visto nel video quello che porti in serata deve essere ben rodato e quindi un buon esercizio continuo e nel tempo poi portare avanti sempre la tecnica oltre agli elementi di selezione e di gestione della serata rende, fa di te un buon DJ ogni giorno e che non ci sia la nazione che non c'è nessuno prende, la medUR prende, la medUR e che viva e che non c'è nessuno per la cucina